secondo me è stato fatto gioco Giggs lancio per Rooney a qualche metro di vantaggio Cordoba lo gestisce parzialmente perché era doveva aiutarsi un po' di più in area poi Evra netto l'anticipo di Cordoba su Rooney attenzione sul calcio piazzato Cordoba adesso il match deve ancora dire molto per lasciare il segno in Manchester Rooney, Cordoba, un colpo di Regni ora Cordoba, prima di Cristiano Ronaldo Cordoba, sicuro ha dato l'inserimento a destra di Stankovic e ha cercato la conclusione, ci stava perché era